Il reddito di cittadinanza, che cosa ne pensa? Purtroppo non lo so. Penso che tutto è male possibile. È contrario quindi? Completamente contrario, perché è un regalo che si fa a mangioppiata agli passori fiscali, ai Roma, a quelli teoricamente non ritenenti che ci hanno, diciamo, le case di nello contrario. Reddito di cittadinanza, che cosa ne pensa? Io sono d'accordo, sinceramente. Sono molto d'accordo. Non è un incentivo a non lavoro? No, assolutamente. È un aiuto. Sì, non sarà un aiuto. Sperando che sia usato bene. Se dico reddito di cittadinanza, che cosa ne dice? Il reddito di cittadinanza è giusto che ci sia. È chiaro che prima per abituare questa gente a prendersi il reddito di cittadinanza c'è da lavorare. D'accordo. Però è giusto che ci sia, in quanto in Europa si può dire che la prendono tutto il reddito di cittadinanza, sotto forme di... ma la sostanza è quella, c'è il popolo che ha fame, c'è il popolo che hanno ridotto le vecchie politiche, hanno ridotto questo paese in queste condizioni ed è giusto che questi ragazzi nuovi che criticano tutti questi grandi politici, Sabiantone, intanto questo gruppo chiamato 5 Stelle, Salvini, come cavolo si chiama, e gente che sta dando il loro grande contributo alla gente che ha bisogno. C'è gente, giovani, che non prendono soldi, che non hanno soldi, chi li deve mantenere. Qui ci vuole che il paese venga rivoluzionato da questa gente qua. Fortunatamente siamo piano piano governati da ragazzi che si rendono conto che anche loro si vivono queste angherie da parte della vecchia politica, dei grandi danarosi, i grandi industriali come i vari Berlusconi, i vari Benedetti, e chi chi ha più ne metta. Questa gente qua è chiara che a noi gli diamo fastidio, ma comunque sta bene il reddito di cittadinanza. Contrario o favorevole al reddito di cittadinanza? Lei mi sta facendo una domanda veramente molto, in certo modo profonda, perché andiamo proprio nel profondo del problema. In Italia, negli anni passati, a pensare degli anni 70, anzi addirittura col boom del 68, arrivare ad oggi non si è fatto niente. Io mi auguro che questi ragazzi che sono a potere adesso, possano sistemare qualcosa, quello che non hanno fatto 70 anni a venire. e capisco che sia una cosa più, perché è giusto che la gente deve avere soldi in tasca per poter spendere e far girare il denaro, perché se il denaro non va a vale nell'Italia e nemmeno l'Europa. Quindi per me bene ci stiamo. Questi buffoni politici che ce ne vuoi dire? Tutti buffoni? Sì, tutti buffoni, non vi interessa niente la politica almeno. No, no, basta. Che cosa ne pensa? No, non ne capisco niente. Reddito di cittadinanza, che cosa ne pensa? Se è fatto bene, sono favorevole. Se è fatto bene, in Italia non lo faremo bene, quindi negli altri paesi funziona, ma qui non penso che funzionerà, come al solito. Reddito di cittadinanza, che cosa ne pensa? Che bella domanda. Bella domanda. Potrebbe essere una cosa interessante, potrebbe essere una cosa interessante, se se ne fa un buon uso chiaramente. Condizionale d'obbligo quindi? Secondo me sì.